signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite questo canale continuiamo la nostra trattazione sul planscape che è l'ambientazione per antonomasia di dungeons and dragon questa settimana ci occupiamo dei piani del male questa sarà comunque una trattazione molto scringata e molto riassunta perché nonostante la serie durerà un sacco di video il planscape è un'ambientazione molto grossa che noi per ora toccheremo solo superficialmente come esempio di ambientazione su cui poi basare le vostre questa settimana le cose si fanno più divertenti perché andremo a vedere la parte bassa della grande ruota e andremo a parlare dei piani dominati dal male il male nella cosmologia di dungeons and dragon è una delle quattro forze fondamentali dell'universo ed è quella che soprassiede all'amor proprio agli interessi personali e al preservare se stessi a discapito degli altri per la maggior parte dei viventi è una forza relativamente ostile ma in realtà è necessaria il funzionamento dell'universo tanto quanto lo è il bene i piani del male sono comunque tra i più ostili in assoluto soprattutto i viaggiatori planari sia per la loro natura tutto ciò che è contaminato al male è ostile e pericoloso di per se stesso sia perché gli abitanti gli esterni e i supplicanti che finiscono nei piani malvagi sono quelli che durante la loro vita non hanno fatto altro che cercare la gloria del male e dopo morti come supplicanti o come esterni demoni diavoli se hanno fatto carriera mettiamola così continuano a proseguire lungo questo loro proposito cercando di infierire su chiunque incontrino soprattutto se questi sono degli sprovveduti viaggiatori planari che arrivano dal piano materiale senza una chiara idea di cosa sia la follia che sono i piani esterni nessun nome potrebbe essere più appropriato di grigie distese per descrivere quello che è l'ade il più malvagio dei piani malvagi dove solo il male regna incontrastato nella forza più pura che possiede qui tutto è grigio tutto è triste tutto è polvere la natura stessa del piano priva di colore in realtà priva della voglia di vivere chi ci si avventura all'interno delle grigie distese dell'ade è possibile trovare praticamente tutte le razze immonde che abitano la grande ruota e anche molte delle razze malvagie non solo che vengono dal piano materiale principalmente tutte intente a combattere la guerra sanguinosa l'eterno conflitto tra l'abisso e l'inferno che qua suade ha uno dei suoi fronti principali e dove costantemente infinite armate si scontrano tra di loro con in realtà cupa determinazione perché l'ade è un piano di morte di sofferenza non è neanche possibile definire una reale geografia delle grigie distese il loro grigiore trascende la realtà e diventa una vera forza spirituale si tratta per la maggior parte di un piano fatto di infinite pianure di cenere grigiastra alcuni affioramenti montuosi bassi uggiosi e grigiastri senza nessun sole luna o fenomeni atmosferici se non un cielo grigio che emana un soffuso bagliore grisastro che rende tutto il piano in penombra questo grigiore spirituale che è l'essenza stessa del male contamina tutto quello che accede al piano anche un visitatore che dovesse entrare nelle grigie distese scoprirà che questa assenza di colore si applica anche a se stesso è come se il mondo diventasse in bianco e nero ma la potenza spirituale del male lentamente priverà anche il visitatore di tutta la sua gioia di tutte le sue motivazioni di tutte le sue aspirazioni fino a farlo fondamentalmente crollare nel cinismo più esasperato e alla fine privarlo di ogni motivazione fino a quando questo semplicemente non si fermi dov'è e si lasci morire sul posto perché questa fondamentalmente è la reale natura del male e una volta che un mortale ha cominciato a essere risucchiato alle distese fondamentalmente la sua fine segnata le grigie distese intrappolano al loro interno chiunque ci sia avventuri privandolo della voglia di procedere e moltissimi eroi materiali sono fondamentalmente morti qui perché non sono riusciti a scappare da questo piano di tristezza assoluta prima che il tratto di cambiamento del piano avesse la meglio su di loro e fondamentalmente perdessero ogni volontà di fare qualunque cosa e semplicemente si abbandonassero al cinismo eterno del male la cupa eternità di gehenna chiamata anche la quadruple a fornace di gehenna è un posto di montagne infinite e pendi scoscesi il piano a quattro strati ognuno composto da un vulcano virtualmente infinito ed è per questo su gehenna non esiste terreno pianeggiante è tutto uno scosceso di rupo attraversato da fiumi di lava gehenna sta tra l'ade e poi nuove infari e il posto dove il puro male viene contaminato e stemperato dalla legge per quanto esistano degli insediamenti planari anche degli insediamenti mortali sulle pendici dei vulcani di gehenna normalmente hanno vita breve e il loro destino è sempre quello di crollare e franare a valle solo che non essendoci una valle continueranno a precipitare all'infinito lungo i fianchi della montagna a meno che queste cittadelle arroccate non si siano manifestate per volontà di uno degli dei del male e in secondo modo è la legge che hanno qua i loro domini divini o che siano quelle scavate dagli jugolot la razza di immondi malvagi che è nativa del piano e che principalmente combatte come mercenari nella guerra sanguinosa da entrambe le fazioni c'è un'eccezione però questa regola perché esiste un insediamento stabile nel gehenna che è la città strisciante un'immensa metropoli infinita al suo stesso interno che cammina su migliaia di gambe immonde che si arrampicano costantemente sulle pendici dei vulcani o attraversano i mari e i fiumi di lava e in cui ha sede il generale degli jugolot che è il almeno sulla carta sovrano dell'intera razza immonda questo è uno dei quei piani che non sono immediatamente letali per i viaggiatori planari ma in cui comunque è meglio non soffermarsi più di tanto le profondità tartare di carceri sono un luogo di esilio di inganno e di tradimento il posto dove tutto ciò che non ha un altro posto dove stare nella grande ruota alla fine finisce e sono il luogo nel multiverso dove la pura essenza del male viene parzialmente irrigidita e organizzata dalla volontà della legge la vera forza a fare da padrone su carceri è l'odio l'odio nella sua forma più assoluta l'odio verso gli altri l'odio verso il piano e l'odio verso se stessi si dice che quando qualcuno viene imprigionato su carceri l'unico modo che abbia per fuggire e diventare più potente di chi l'abbia imprigionato ma in un piano in cui la natura degli esteri viene così corrotta da fargli detestare tutto ciò che esiste questo è virtualmente impossibile perché si andrebbe a perdere la motivazione e chiunque rimanga intrappolato su carceri rimane bloccato in un eterno ciclo di tradimenti inganni e ribaltamenti di potere contro tutti gli altri agenti planari presenti e anche contro se stesso i propri interessi carceri è composto da sei strati planari che si manifestano come delle immense sfere cupe come se fossero dei pianeti del piano materiale immersi in un buio eterno in cui la bizzarra sorgente di luce è il terreno stesso carceri è tutto avvolto in un bagliore rossastro che viene emanato direttamente dalla terra nera dei suoi pianeti e quindi proietta le ombre verso l'alto in realtà come una metafora dell'impossibilità della fuga del corpo rispetto allo spirito da ogni sfera è possibile vedere le altre cinque che si dipanano nel cielo e tutte e sono ovviamente attraversate dall'ostige lungo le rive l'ostige sono le zone più fisicamente pericolose perché anche carceri ovviamente come tutti i piani inferi è uno dei campi di battaglia della guerra sanguinosa anche se qui normalmente avvengono scontri di tutti contro tutti perché la natura del piano corrompe anche le armate abissali normalmente questi scontri vengono vinti dai diavoli che diciamo hanno quelli che hanno il know how migliore in questo campo ma qua vengono mandati a combattere quei guerrieri che nessun altro vuole perché comunque stiamo parlando di carceri e questo dovrebbe darvi un'idea di in dove non passare le vostre vacanze nella grande ruota diciamo che per questo video è tutto ovviamente ci sarebbe molto più da dire ma voglio tenere questa serie il più stringata possibile nel caso comunque se pensate ci sia qualcosa di importante che ho saltato scrivetelo nei commenti qui sotto e scrivetemi anche eventuali domande dubbi perplessità come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master k e noi ci vediamo nel prossimo video